ciao a tutti benvenuti su Megisoflotus allora prima di iniziare vi ricordiamo di iscrivervi al canale di lasciare un like di commentare di attivare la campanella vi ringraziamo un sacco per il supporto abbiamo stampato le magliette sono arrivate scusate le felpe e sono molto belle devo dire che mi piacciono molto e niente per chi le ha prese arriveranno a brevissimo e allora questo video è un video a cui penso da tantissimo tempo ed è una guida agli investimenti nel titolo troverete definitiva ovviamente nessuna guida è definitiva ognuno ha la sua opinione e sicuramente qualche aspetto degli investimenti non lo citerò purtroppo perché non posso sicuramente non sarà perfetta però può essere una buona base per chi vuole investire vuole capire un po i meccanismi del mercato di magic allora partiamo questa è la parte 1 quindi ci faranno più video e dire di iniziare da una cosa che abbastanza importante se vogliamo fare speculazioni alla studiare i set futuri vi faccio un esempio questa è l'articolo sulle uscite nel 2022 di magic kamigawa neo destiny che uscirà breve per esempio essendo kamigawa un set formato sempre da tantissime carte leggendarie delle speculazioni su questo tipo di carte si potevano fare per esempio vi ho messo qua degli esempi reiki è una carta che si attiva si innesca anzi l'abilità quando giochiamo una spell leggendaria e peschiamo una carta quindi questa è la classica carta che con l'uscita di un nuovo kamigawa potrebbe salire infatti adesso voi vedete questa è la versione secret layer ma le altre due versioni sono già salito un po perché ovviamente una speculazione facile no dici kamigawa carte leggendarie reiki pesco perché gioco carte leggendarie quindi il collegamento è facilissimo in più sono salite tantissime leggende sempre di kamigawa perché appunto c'erano speculazioni sui samurai su mille cose l'altra speculazione era su i ninja infatti per esempio yuriko che era sceso stabilmente sui 4 5 euro e schizzato a più del doppio come potete vedere 10 11 euro tranquillamente quindi questa è un'altra speculazione che ha molto senso perché infatti poi hanno stampato un comandante per un nuovo comandante per commander già un place walker quindi ci sono già tante carte che vanno a ad alzare il livello dei ninja stampati in passato ne sono saliti anche altri oltre a yuriko e quindi per esempio studiare i set che devono uscire in futuro può essere un buon modo per speculare ripeto kamigawa era abbastanza semplice ovviamente uno deve avere il tempo i soldi e come andremo a vedere in seguito ci sono diversi fattori quindi questo è un investimento che può essere magari a medio termine perché questo articolo è del 24 agosto quindi diciamo quattro mesi fa circa ok quindi uno comunque deve dire boh a fine agosto in settembre dico boh inizio a comprare un po di ninja un po di creatura leggendaria di kamigawa e boh ci può stare allora poi troviamo infinity infinity essendo un set scherzo però avevano già annunciato se non sbaglio la ristampa delle delle shock land eccolo qua vedete shock land quindi c'era poco da speculare nel senso che è un set di di carte che in teoria non sono legali in teoria tranne alcune e quindi c'era poco oggettivamente c'era poco da speculare c'è infiniti non non ci dà segnali per esempio andiamo su street of new capenna allora se il mio capenna cosa sappiamo è un set di standard nella città di angeli costruita dagli angeli in cui ci sono le famiglie criminali di demoni tricolor quindi demoni tricolor quindi sicuramente saranno mitici ce ne sono ce ne saranno le scusate leggendari tricolor demoni angeli quindi angeli quindi noi potremmo già investire per esempio sulle carte a base angelo che potrebbero essere la base di un commander angeli per esempio caglia perché no caglia e credo che sia l'investimento proprio più automatico vedendo street of the new capenna quindi come potete vedere studiare le uscite future è un ottimo metodo per provare a speculare tra virgolette guadagnare soldi su medio lungo periodo in questo caso però poi c'è commander legend battle of for baldur gate che dovrebbe essere sempre abitato in in come si chiama in forgo terriam di dungeons and dragons sì e per esempio qua non lo so su questo faccio un po fatica a trovare cioè command commander legge però faccio fatica a trovare delle speculazioni no è un po difficile dovremmo andare sulle carte che possono essere ristampate double master 2022 questo è proprio un set di sole ristampe di grosso valore e quindi qua possiamo parlarne allora vi ho messo altre tre carte chiudiamo ora è che io dico ho messo tre carte che secondo me necessitano di una ristampa e quindi per esempio queste tre carte sono delle carte che in double master 2022 ci potranno essere molto probabilmente alla partiamo mox amber per esempio una è una carta che come potete vedere ha solo 542 copie che non è tanto e il valore della carta è in continua scesa come potete vedere 25 euro questa è una carta che da qui all'estate quando uscirà double master 2022 sicuramente necessiterà di una ristampa quindi o fanno una ristampa un po così in un che lei ero o la mettono per esempio nel nel list però sono ristampe veramente piccole invece in double master una ristampa un po più grossa questa carta da qui all'estate potrebbe andare a 40 euro tranquillamente ma veramente tranquillamente ed essere stampate in double master in versione full art mitica eccetera quindi secondo me questa è una carta che necessita ristampa quindi io cosa faccio se ho queste queste carte io posso dire boh ok la tengo due tre mesi ancora poi si avvicina double master 2022 questa carta sarà 40 euro io cosa faccio vendo le mie copie tanto non le sto giocando e poi al massimo le ricompro in double master più belle e tutto questo ragionamento più completo che va fatto su tutto su tutta la nostra collezione ma lo faremo in seguito la baggis of war questa è una carta che per esempio in inglese di portal guardate la prima 335 c'è un prezzo veramente altissimo e ce n'è solo una tra l'altro 335 che anche in teoria un buon prezzo per il per la valutazione di adesso per quella dopo è a 90 euro in più quindi poi in giapponese la troviamo anche più bassa c'è la versione promo questa qua fuori trattamente disegno non fa neanche impazzire però la carta importante averla se giochiamo commander però questa è una carta che può essere ristampata perché non è riserva list e segue il il filone del green tutor dell'impera recruiter carte di porta altri kingdoms che sono state ristampate di portal che sono state ristampate quindi direi di non investire su queste carte a meno che non sia strettamente necessario cioè spendere quasi 200 euro per una carta che poi ti stampano magari a 10 euro è un po così quindi questa carta per me necessità di stampa e io pur giocando con madre piuttosto preferisco non giocare mazzi oppure se qualche amico ce l'ha te la fai prestare bom però investirci è veramente c'è a dire anche un'altra cosa e le versioni vecchie poi non è che crollano se la carta viene di stampata probabilmente il mercato si rimpicciolisce perché se ti io ti ristampo una carta da che da 160 70 euro passa a 10 sicuramente il mercato si rimpicciolisce la terza carta è vera n6 secondo me richiede una ristampa seria non del list la carta un valore veramente alto e sono molto 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 confidente col fatto che venga ristampata in double master 2022 credo che quella sia proprio la casa di vera n6 se non sbaglio hanno spoilerato il box e c'era brand sopra quindi non sto dicendo una cosa a caso però vorrei avere conferma anche da voi su questa cosa qua io i miei l'ho venduti già anche se molto molto in anticipo perché comunque il prezzo è veramente altissimo e in caso di una ristampa per esempio in double master 2022 non li stavo giocando perché se li stessi giocando non se li stavo giocando non li avrei venduti e però non li stavo giocando e quindi casomai venissero ristampati in double master 2022 o prima il prezzo crollerebbe in più la cosa che fa la wizard è che poi ti stampa una versione anche più bella magari old layout o full art alternative art che già bella è questa questa è bellissima però pensate questa stessa versione old layout bellissima quindi cosa succede poi se io se voi le tenete queste carte senza giocarle ve le ristampano in double master quella versione va a 50 euro e poi vi ritrovate ad aver perso 30 35 euro a copia quindi 140 euro sul set per tenere delle carte che non magari avete giocato pochissimo o non avete giocato tra l'altro col covi di che c'è adesso si giocherà anche meno quindi è tutto diluito e quindi vi trovate ad aver perso 130 150 euro magari a dover a dover poi dire ok mi voglio la versione old layout qui dovete vendere queste prezzo ribassato che andranno meno di quello layout comprare l'old layout qui ci perdete ancora di più e io dico a senso per me non ha senso questo non è fare dei buoni investimenti questo vuol dire perdere soldi e quindi il mio consiglio è che se non le state giocando piano piano in questi mesi di venderle e se vi servono potete anche acquistarle comunque c'è da qui all'estate mancano sei mesi quindi c'è tempo anche se vola il tempo vola il tempo va velocissimo quindi allora questa parte del degli investimenti direi che l'abbiamo analizzata abbastanza bene qua ci sono altre espansioni come dominare a united jumpstart ecco volevo parlare di un'altra espansione qua che è the brother wolf the brother war the brothers war allora questa è un'espansione incentrata su urza e mishra allora essendo incentrato su urza e mishra dovrebbe essere un'espansione artefatti quindi essendo un'espansione a base artefatti le carte che poi possono salire sono quelle che hanno grosse grosse sinergie con gli artefatti e adesso è bannata in modern ma per esempio per con moxopale no per dire ne dico una caso cioè potrebbe comunque questo set dare una spinta ai commander colorless artefatti e o colorati ma artefatti e quindi far salire in moxopale sto dicendo una carta caso oppure le carte con affinità con gli artefatti potrei dire mille cose e quindi questo è tutto un filone di aumento di prezzi di carte che se uno ci arriva prima può fare un ottimo guadagno ma veramente veramente ottimo questa carta esce nell'ultimo quarto di del 2022 scusate questa espansione quindi stiamo parlando di ottobre ottobre novembre dicembre si ottobre novembre dicembre dovrebbe essere e quindi sarà l'ultima espansione dell'anno più o meno quindi c'è ancora molto tempo però bisogna svegliarsi prima perché sanno poi le carte vengono magari se quelle rate c'è qualcosa e tutto allora dire di che siamo arrivati a conclusione questa prima parte spero vi sia piaciuta ne faremo un'altra almeno o anche altre due adesso devo ragionarci bene o la scaletta e devo capire a quanto viene lungo per non farvi video infiniti iscrivetevi al canale lasciate un like e commentate attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati venite a trovarci su tutti i social compresi anche twitch dove siamo attivi facciamo live più live a settimana e tra l'altro quando arriveremo a 100 100 barra 150 iscritti su su twitch se ci arriveremo e la nostra intenzione di fare delle chiacchierate delle conversazioni anche senza giocare quindi fare più un salottino tra virgolette così parliamo di tutti investimenti magic futuro speculation qualsiasi cosa ne parliamo assieme un abbraccio amici su flottus e dalla prossima ciao